Le polemiche che per una settimana hanno infiammato la città non potevano essere una pubblicità migliore per il rapper Bello Figo che domenica sera come da programma e contrariamente a quanto spiegato dalla Lega si è presentato puntuale al concerto organizzato al centro sociale di Via dei Salici in chiusura del District Festival. Sotto il palco ad attendere circa 1200 ragazzi tra i quali tanti giovanissimi, molti stranieri ma anche rampolli della Legnano Bene arrivati per vedere se anche del vivo Bello Figo è il personaggio che si è creato sui social. Un artista dissacrante, ironico, autore di testi a dir poco abominevoli che però ai ragazzi fanno soltanto ridere. E così domenica sera sono stati i propri ragazzi a seppellire con una risata le polemiche suscitate la scorsa settimana. Il loro punto di vista? Bello Figo non lancia messaggi, l'errore lo commette chi pretende di prenderlo sul serio.